I tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti al centro di formazione Suning, ventesima giornata del campionato primavera. Si muove Oristagno, Mezzoni entra dentro il campo, poi ha tre maglie bianche intorno, trova buono la traccia per Oristagno, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Satriano che sfiora il palo. Ad un passo dal gol l'Inter, questa volta molto bella l'azione, molto più pericolosa, ma al solito molto educato al sinistro di Oristagno, gran bel cross, l'incornata non esce di tanto anche se Ciocci sembrava lì. Oti, perda un bruttissimo pallone sull'attacco di Del Pupo, occhio al Cagliari che va in porta Stankovic, ci mette le mani, perda un pallone davvero sanguinoso sull'attacco di Del Pupo. Poi va in porta col sinistro, bravo Filippo Stankovic, arriva Satriano, si torna da Ciocci, pallone corto, rischiosissimo, perso, poi dal Cagliari, Casadei in area di rigore, Casadei prova il tiro, traversa e il pallone non è entrato. Gran palla recuperata da Casadei, traversa riga, porta il pallone squizzato, cerca Satriano, prova a chiudere 1-2, Oristagno ce l'ha sul sinistro, poi sul destro, Oristagno calce in porta, boccia poi Satriano sul rimparo. L'Inter passa in vantaggio, al minuto 28, alla fine trova il gol, la formazione di Madonna con Martin Satriano. Finta al sinistro, va sul destro, calcia bene in porta nonostante non sia al suo piede, la respinta di Ciocci sui piedi però dell'attaccante uruguaiano, che da pochi passi mette dentro il gol dell'1-0. importantissimo, ci hanno andato anche vicino all'Inter. Giocata però questa volta errata, che lancia in contropiede, ha aperto Luvumbo, 1-1 su Oti, torna veloce la difesa dell'Inter, Luvumbo contro Oti, Luvumbo in area di rigore, Luvumbo prova il tocco, Stankovic. anche se il Cagliari chiede un calcio di rigore, comincia il secondo tempo con il Cagliari, Agostini. deve stare attento perché è già munito, poi bella palla per Luvumbo che parte in posizione regolare, Luvumbo in area di rigore, se la porta sull'estero, Luvumbo! Ancora grandissimo intervento di Stankovic, che parata del capitano dell'Inter, con la mano aperta, scende giù velocemente, ancora di più dopo l'uscita di Oristania dalla bandierina, destro basso all'altezza del primo palo, respinto, seconda chance però per il centrocampista dell'Inter, perché la controlla, va al limite da Sangalli, cross in mezzo di Sangalli, Casadei arriva, prima il colpo di testa, è il gol del 2-0 dell'Inter, l'altra fiammata, sempre di Satriano, 2-0 al cinquantottesimo, è stato bravissimo a guardare la traiettoria, ancora Satriano, bel cross di Sangalli, la mette precisa nell'angolino dove Ciocci non può arrivare, doppietta per l'attaccante uruguayano, uno di piede, uno di testa, la gioia di Satriano, il cross in mezzo dalla sinistra, cercare il colpo di testa di Couda, arriva Masala sul secondo palo, la rimette in mezzo, rischia l'autogol, Sottini, era l'ultima azione della partita, finisce 2-0 per l'Inter, grazie alla doppietta di Martin Satriano, torna la vittoria, la squadra di Madonna dopo il pari di Genova contro il Genoa. Hey, non dimenticate di iscriverti a nostro canale YouTube. Hey, non olvides suscribirsi a nostro canale YouTube. Hey, non esqueci di abongiare a nostro canale YouTube.